Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale! Io sono Matteo Petaluga e in questo video rispondo alla domanda che mi ha fatto Albi su Instagram che mi ha chiesto, Matteo, se tu dovessi ripartire da oggi, da zero, a studiare marketing digitale, che competenze vorresti approfondire subito? Cioè, su cosa ti butteresti? E rispondo dando la mappa in tre step che io seguirei se proprio dovessi dire, ok, mi cancellano la memoria, perdo tutto e devo ripartire da zero oggi. Voglio fare marketing digitale, cosa devo fare? Allora, la prima cosa che io farei se veramente mi togliessero la memoria è andare a studiarmi subito come funziona il traffico. Questo è il primo step. Il traffico cos'è? Beh, significa andare a vedere su tutte le piattaforme del web, quindi ti sto parlando dei principali social e dei motori di ricerca, essenzialmente sono queste, andrei a vedere come funziona il movimento delle persone. Andrei per esempio su Facebook e mi studierei cosa sono i gruppi, cosa sono le fanpage, come è possibile creare contenuti per fare in modo di portare fuori le persone da quelle piattaforme. Quindi sicuramente andrei a vedermi tutte le piattaforme dove ci sono persone che navigano sul web e andrei a capire da lì come portarle via e portarle verso un mio sito o una mia offerta. In che modo? Beh, creando contenuti oppure facendo annunci a pagamento. Quindi mi andrei a studiare su Instagram che tipo di contenuto va, su YouTube che tipo di contenuto va, su Facebook che contenuto va e su tutte queste piattaforme come posso fare annunci a pagamento per velocizzare appunto il traffico e portare via persone da lì apparendo con annunci che compaiono nelle ricerche o mentre le persone passano il loro tempo su questi siti e appunto porto via quelle persone da lì. Quindi prima cosa che andrei a studiare è il traffico. La seconda cosa che andrei a studiare è il funnel. Cioè capire come faccio una volta che le persone le ho portate via da lì, come faccio a convertirle in clienti. Gli offro una consulenza gratuita? Gli offro un preventivo? Gli offro una serie di video gratuiti? Gli offro una pagina web con delle belle informazioni? Che tipo di funnel scelgo? Il funnel, per chi mi segue da poco e vuole capire anche questo argomento, trovi un sacco di video su YouTube da parte mia sul funnel, ed essenzialmente è l'esperienza che le persone vivono da quando ti scoprono fino a quando non decidono di pagare. Quindi tutto quello che c'è di mezzo tra il momento in cui gli appari davanti per la prima volta e dicono ma che cavolo è questo? Magari non pensano nulla, semplicemente non ti conoscono, fino a quando non dicono cavolo ma questo è un bel servizio, mi piace, lo pago. Ecco, tutto quello che succede lì in mezzo è il funnel. Quindi sono i video gratuiti che gli mandi, sono le informazioni di valore che gli dai, sono per esempio la bellezza del tuo sito web e quanto sono organizzate le informazioni, la chiarezza che tu gli offri. Ecco, quello è il tuo funnel. Quindi andrei a capire qual è il funnel giusto per la mia attività. Andrei a studiarmi tutti i tipi di funnel, andrei a comprare prodotti dalla parte delle persone per vedere anche come me li vendono, terrei sempre gli occhi aperti anche mentre vado in giro per vedere come fanno marketing gli altri e quando compro qualcosa mi chiederei continuamente perché l'ho comprato, cioè cosa mi ha convinto e cercherei tutti i modi possibili per applicare ogni cosa che vedo e che mi piace alla mia attività. Quindi diventerei come step numero due un cacciatore e studioso iper appassionato di funnel che convertono. Per terza cosa, e la metto per ultima, il copywriting. Secondo me è molto importante, cioè capire quali sono le parole da usare, il modo di esprimersi, cosa porta le persone a comprare in base a quello che leggono. Molto importante, il copy è essenzialmente il testo, è la scrittura persuasiva ed è sia via testo ma anche via parlato. Quindi come rivolgermi alla mia audience, cosa vogliono sentire da parte mia, che parole fanno il più effetto e cosa fa scattare in loro la voglia di acquistare ed entrare nel mio mondo. E il copy secondo me è veramente decisivo, ma te la metto come terza cosa perché per me è il colpo di grazia, ok? Cioè quando ho catturato il traffico, quindi ho catturato l'attenzione, quando ho portato la persona attraverso un processo dove riceve informazioni di valore, dove si appassiona, dove inizia a darmi fiducia, il copy è l'ultima cosa, cioè è quello che fa veramente dire alla persona, ok, lui è la persona da cui voglio comprare, oppure questo è il prodotto che mi serve e ne sono sicuro al 100%. Ok, quindi il copy è fondamentale ma molte persone lo studiano prima di saper fare marketing. Secondo me invece dovrebbe essere l'ultimo step, cioè prima capisco tutte le dinamiche per attrarre l'attenzione, portare le persone ad interessarsi al mio prodotto e per ultimo attraverso un copy convincente mi perfeziono, miglioro la mia offerta o meglio il modo di comunicare la mia offerta e sicuramente le vendite arrivano in quantità industriale per il mio business. Ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, commentate, fatemi sapere la vostra opinione e ci vediamo prestissimo nei prossimi video. Un abbraccio e grazie!